Un saluto ai nostri telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Doppio Binario, la nuova era economica, le sfide per l'organizzazione del lavoro. È il titolo che abbiamo dato a questa puntata, già perché siamo di fronte effettivamente a una serie di passaggi epocali che stiamo vivendo, dall'emergenza sanitaria che è arrivata alla fine, che sta portando a una vera e propria trasformazione digitale, fino anche alla crisi attuale economica che sta avendo e avrà soprattutto in futuro ripercussioni sul tessuto imprenditoriale mondiale, chiaramente, ma italiano. E di questo parleremo oggi, parleremo di quali saranno le prossime sfide per le organizzazioni aziendali e di come stiamo affrontando questa trasformazione che si repercuote chiaramente sul mondo del lavoro. Lo faremo con i nostri ospiti che sono qui oggi con noi e che vi presento, il professore avvocato Francesco Amendolito, founder di Amendolito Associati e straordinario di diritto del lavoro e relazioni industriali. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Benvenuto. Grazie. E l'avvocato Grazia Fazio, signor partner di Amendolito Associati. Buongiorno anche a lei e benvenuta. Buongiorno, grazie. Ecco, avvocato Amendolito, propongo a lei la prima questione, la prima domanda. Si parla oggi appunto di trasformazione digitale. Le chiedo quali sono, secondo lei, le maggiori implicazioni nel mondo del lavoro attuale e anche nelle organizzazioni aziendali. Grazie. Sì, stiamo assistendo appunto ad una quarta rivoluzione industriale, quindi chiamata anche digital transformation e come tutte le rivoluzioni che si ripercuotono non soltanto sulla vita economica dei paesi e sociale, questo tipo di rivoluzioni impattano su quelle che sono le organizzazioni aziendali e quindi in questo senso impattano su quello che è il modus operandi nella gestione delle risorse umane, quella che io definisco, amo definire capitale umano. Quindi in un'ottica di resilienza ci stiamo interrogando noi operatori del settore su quello che sarà il futuro delle imprese, quello che sarà il futuro dello human resource management e quindi in che maniera intervenire. Un primo problema è evidenziato dalla problematica delle nuove competenze, perché ovviamente digital transformation significa anche nuove competenze. Abbiamo un sistema scolastico ancorato su vecchie logiche ministeriali, anche legate un po' all'impostazione della carta costituzionale nel dopoguerra, che in realtà risultano attualmente obsolete, poco legate con quelle che sono le esigenze di trasformazioni in chiave anche moderna in quest'ottica che stiamo dicendo di digital transformation. Per cui si crea, per tutti possiamo pensare al discorso, al fallimento dell'alternanza scuola-lavoro, ma si sta creando comunque questo questo netto distacco tra il mondo scolastico che deve formare i futuri lavoratori e quello che i lavoratori poi suono nel momento in cui devono entrare nell'ambito delle organizzazioni aziendali. Organizzazioni aziendali rispetto alle quali appunto il vecchio operaio, per fare un esempio, o il vecchio impiegato risultano in un certo senso anacronistici nell'ottica di quello che il cambiamento che appunto le organizzazioni devono fare. E in questo diventa molto importante l'approccio che la normativa da un lato e la contrattazione collettiva dall'altro devono dare per poter consentire e favorire questo cambiamento. Pensiamo al fatto che molti contratti collettivi sono ancora indietro rispetto alle job oggi richieste dal mercato del lavoro, dalle nuove aziende, dalle nuove organizzazioni e quindi sono anche sotto il profilo normativo ancorate diciamo al passato. Pensiamo alle norme che non sono assolutamente diciamo collegate, quindi non so, lo smart working andrebbe regolato ancora di più rispetto a quelle che sono le esigenze anche di garantire un work life balance. Ripeto, ritengo che lo sforzo lo si debba fare non soltanto sotto il profilo della norma legislativa ma anche e soprattutto sotto il profilo della contrattazione collettiva, che deve incominciare ad avere questa mentalità più propensa ad un modus operandi completamente diverso, sia sotto il profilo delle competenze e quindi anche e soprattutto della formazione dei lavoratori, ma anche sotto il profilo di quelle che sono le caratteristiche di flessibilità che oggi le nuove organizzazioni richiedono. Quindi diciamo, per citare anche il titolo della nostra trasmissione, un doppio binario che deve esserci tra appunto la normativa nazionale. Ricordiamo che è ancora in vigore il famoso decreto dignità datato 2018, quindi un'era fa e appunto la contrattazione di secondo livello dall'altra parte. Ecco, Avvocato Fazio, sempre in quest'ottica cercando appunto di stressare il punto che sottolineava l'Avvocato Amendolito, parlando sempre di trasformazione digitale del mondo del lavoro, a suo avviso abbiamo oggi gli strumenti dal punto di vista normativo per affrontarla, l'Avvocato appunto diceva di no e quali sono appunto le principali necessità che vanno regolate a suo avviso. Guardi, per affrontare diciamo questa che viene definita dagli storici, una quarta rivoluzione industriale, in realtà sarebbe necessario l'intervento importante di tutte le parti in gioco, quindi a partire dal legislatore per continuare con le parti sociali e poi a finire alle parti proprio agli individui che concretamente si trovano a affrontare giornalmente le problematiche concrete che si presentano nella gestione di queste nuove sfide. Partendo diciamo da quella che può essere la fonte principale a cui noi possiamo riferirci, quindi la fonte normativa legislativa, in realtà il legislatore nel lontano 2011, chissà quante ore fa oramai, introdusse una norma che per l'epoca era epocale e con una forza diciamo prorompente che prevedeva all'articolo 8 della legge 148 la possibilità di convenire a livello aziendale dei contratti collettivi che avevano una caratteristica incredibile per l'epoca che era quella di poter derogare impeius, quindi con condizioni peggiorative, alla contrattazione nazionale e oltretutto avendo altresì addirittura un'efficacia erga omnes, quindi un'efficacia cogente al pari della legge e opponibile a tutti i lavoratori delle imprese che li avessero sottoscritti. Proprio per questa loro caratteristica molto particolare, i contratti collettivi, cosiddetti di prossimità oramai, insomma noti a tutti, hanno faticato tantissimo a svilupparsi, in quanto il sindacato evidentemente era un po' diciamo dubbioso nell'applicare una normativa che addirittura derogasse alla normativa nazionale. Con il tempo però si sono capite le possibilità che attraverso questi contratti di prossimità appunto si potevano sviluppare e si è iniziata ad applicare in concreto questa opzione normativa. La norma essendo così particolare ha però una serie di caratteristiche stringenti per cui il contratto di prossimità non si può convenire sempre e comunque, ma è strettamente vincolato a delle finalità che deve perseguire e a dei contenuti che deve necessariamente contenere oltre i quali non può andare. Le finalità per riassumere, diciamo che sono elencate nella norma, ma per riassumere potrebbero essere definite finalità da un canto difensive, quindi quelle che consentono in qualche maniera all'azienda di fronteggiare dei periodi di crisi, d'altro canto in qualche maniera espansive perché potrebbero accompagnare l'azienda in situazioni di sviluppo, di crescita, di innovazione. Mentre sono i contenuti dei contratti di prossimità che sono molto stringenti perché i contratti di prossimità si possono fare solo per l'introduzione di nuove tecnologie, si possono fare per regolamentare le qualifiche, le mansioni e l'inquadramento dei lavoratori, si fanno per l'orario di lavoro, per l'organizzazione dell'orario di lavoro e poi in ultimo per definire delle modalità di assunzione o regolamentare le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro. Dicevo, hanno faticato molto a introdursi, ma una volta che poi sono entrati un po' nel sistema, in realtà c'è stata un'applicazione abbastanza importante di questi contratti e alla stregua di questo noi abbiamo fatto una verifica ad oggi di quale sono state le finalità principali che sono state perseguite con questi contratti e i contenuti principali che sono stati regolamentati. Dovremmo avere delle slide che potremmo magari proiettare per chiarire esatto. Allora, come possiamo vedere riguardo alle finalità, abbiamo 34 casi in cui le finalità sono produttive, quindi positive, abbiamo finalità di flessibilità 19, abbiamo poi altrettante ipotesi in cui abbiamo finalità per esempio 14 superamento della crisi, 10 legalità, 7 sicurezza del lavoro. Diciamo che facendo un'analisi complessiva possiamo forse concludere che sono stati applicati in uguale maniera sia a scopo espansivo che a scopo difensivo. Ma il risultato più interessante forse lo troviamo esaminando i contenuti che sono stati disciplinati in questi contratti e qui dovremmo avere la slide successiva. Chiediamo sempre alla regia di mandare in onda. Ecco, allora i contenuti principali riguardano proprio la regolamentazione dell'orario di lavoro, quindi abbiamo una serie di contratti che intervengono sulla turnistica, sulle ferie, parerrol straordinario, flessibilità in entrate e in uscita, banca ore, orario multiperiodale, reperibilità trasferte. Che cosa possiamo vedere da tutto ciò? Chiaramente si va alla ricerca di una flessibilità dell'organizzazione dell'orario di lavoro. E perché è necessario regolamentarlo in un contratto di prossimità? Perché in realtà la norma sull'orario di lavoro, quella legislativa, è piuttosto, tra virgolette, oramai abbastanza libera e quindi non ci sono dei vincoli molto stringenti, ma il contratto collettivo nazionale impone una serie di regole che vanno rispettate. Quindi andare oltre quelle regole significa poi sforare in istituti, quale straordinario, che vanno compensati con indennità e quant'altro, che rendono un po' ingessata la gestione dell'orario di lavoro. Col contratto di prossimità, andando in deroga al contratto collettivo nazionale, noi raggiungiamo l'obiettivo di avere una certa, appunto, flessibilità nella gestione dell'articolazione dell'orario di lavoro. E al pari, se abbiamo l'ultima slide, ecco, vediamo che anche le tipologie contrattuali che vengono regolamentate sono proprio quelle relative ai contratti che consentono una prestazione articolata, particolare, non la classica prestazione del lavoro a tempo indeterminato full time, quindi abbiamo il part time, il tempo determinato, la somministrazione, l'apprendistato, sono tutti contratti che evocano una prestazione flessibile. Quindi questa verifica concreta ci porta a concludere evidentemente che l'esigenza principale è proprio quella della flessibilità. E il contratto di prossimità, in qualche maniera, è stato funzionale a raggiungere questo obiettivo, potendo così superare i limiti imposti dal contratto collettivo nazionale. Ecco, quindi insomma ci sono degli aspetti chiaramente positivi che ha sottolineato, e anzi sono davvero interessanti le slide che abbiamo visto e che ha descritto in modo così puntuale, abbiamo sottolineato appunto gli aspetti positivi del contratto di prossimità, per il quale però il legislatore ha previsto determinati, diciamo così, paletti e vincoli. Per cui per andare in conto a una maggiore, ancora maggiore flessibilità, le chiedo se la contrattazione aziendale può avere un ruolo di rilievo in questo senso e quali sono le esigenze aziendalistiche e da parte dei lavoratori che potrebbero trovare una risposta con questo tipo di contrattazione. Guardi, io credo che la contrattazione aziendale possa essere davvero la chiave di volta, nel senso che è lo strumento che principalmente può consentire di rispondere in maniera concreta alle esigenze dell'azienda per un motivo semplicissimo. La contrattazione aziendale è fatta dall'imprenditore e dai rappresentanti sindacali dell'azienda, sono i soggetti più vicini all'azienda, sono i soggetti che conoscono le problematiche dell'azienda e che quindi insieme possono convenire su delle modalità normative per affrontare queste problematiche e risolverle nella maniera più precisa possibile rispetto alle esigenze dell'azienda. è una sorta di contrattazione sartoriale, è quella che è fatta ad hoc per le esigenze aziendali. In effetti il legislatore nel 2011 in qualche maniera intuisce questo, tant'è che consente alla contrattazione aziendale di derogare al contratto collettivo nazionale. E dopo anche nel famoso Jobs Act nel 2015 ancora una volta viene richiamata la contrattazione aziendale tra le fonti contrattuali laddove il contratto collettivo viene definito come quello firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, territoriale e aziendale. Quindi tutte le leggi che dopo il 2015 in qualche maniera rinviano alla normativa collettiva definita nel Jobs Act, che è una sorta di legge faro su questo, rinviano anche alla contrattazione aziendale. Il problema però rimane concreto, perché se è vero che la contrattazione aziendale può avere e deve avere questa potenzialità, è altrettanto vero che la contrattazione aziendale essendo nella gerarchia delle fonti l'ultima, è tenuta appunto al rispetto di tutte le fonti sovraordinate. Quindi se si manifestano delle esigenze ma si è imbrigliati nella normativa superiore, queste esigenze potranno essere affrontate ma illimitatamente, a meno che non si vada a firmare un contratto di prossimità che però si può firmare solo in determinate materie. Quindi a volte ci sono delle esigenze di flessibilità, che è quello che noi abbiamo visto dal contratto di prossimità, sia da parte aziendale per determinare un'organizzazione del lavoro più libera e più vicina alle esigenze di queste nuove sfide, ma sia da parte dei lavoratori che magari aspirano a un'organizzazione del lavoro meno avvincolante, ingessata alle otto ore giornaliere per raggiungere il cosiddetto work-life balance, la prospettiva potrebbe essere proprio la soluzione attraverso il contratto aziendale, ma in un'ottica che al momento purtroppo al netto dei contratti di prossimità non è possibile perseguire. Ecco, quindi torniamo diciamo al punto di partenza, Avvocato Amendolito mi rivolgo a lei perché abbiamo ampiamente analizzato il ruolo delle parti sociali, il contratto di prossimità e la possibilità anche delle aziende di svolgere la contrattazione, ma se i cambiamenti non arrivano dall'alto tutto questo è ancora più difficile. È vero che proprio il vostro ruolo è quello di aiutare le aziende a trovare quell'equilibrio che altrimenti risulta impossibile da trovare, però le chiedo quali modifiche sono necessarie a questo punto da parte delle istituzioni del governo. Provo a sintetizzare, ovviamente che se non altrimenti sarei a fare il Ministro del Lavoro, però l'Avvocato Fazio ha toccato proprio un tema molto importante, ha anche detto a un certo punto il contratto di aziendale, il contratto di prossimità può essere lo strumento più utile perché in realtà viene fatto, viene redatto e sottoscritto dalle parti in gioco, non da parti che sono estranee anche magari all'azienda stessa e al territorio. Il problema è che, e questo anche perché poi la contrattazione collettiva di secondo livello, in particolare l'aziendale, potrebbe essere più slegata da quelle logiche politiche che imbrigliano a livello nazionale il sindacato stesso nelle scelte, anche se il sindacato magari è convinto che si può andare verso una direzione, per motivi politici è costretto a non andare a seguire quella direzione, a scapito delle aziende, a scapito dell'imprenditorialità, dello sviluppo strategico aziendale. Allora il problema è questo, prima di tutto un cambio di mentalità e faccio un piccolo esempio, pensiamo a quello che oggi le aziende sono pronte a portare avanti, che potrebbe essere veramente una vera e propria rivoluzione copernicana all'interno di questa digital transformation, di questa quarta rivoluzione industriale, cioè il work-life balance, il raggiungimento del benessere e dell'equilibrio vita-lavoro. Il lavoratore deve essere felice, se è felice produce. Per fare questo, ovviamente lo smart working che è stato applicato in maniera errata durante la pandemia, oggi le aziende sanno che può essere uno strumento invece veicolare di produttività, di sviluppo, ma per fare questo, quindi va bene anche per gli imprenditori, noi seguiamo aziende e le aziende ci dicono a me non interessa che il lavoratore lavori otto ore, l'importante è che mi raggiunga gli obiettivi. Per fare questo, per esempio, e quindi vengo, seguo quello che diceva l'avvocato Fazio, poc'anzi, e cioè è necessario che in una contrattazione collettiva i sindacati mi consentano di valutare il raggiungimento degli obiettivi, controllare il raggiungimento degli obiettivi, non anche l'attività lavorativa del lavoratore. Molto spesso invece il sindacato si trincera dietro, per esempio, la norma statutale, l'articolo 4 del statuto dei lavoratori che vieta il controllo dell'attività lavorativa. In quest'ottica mi sento di dire che per esempio il contratto di prossimità che è stato creato in deroga però con determinate materie che l'avvocato Fazio ha evidenziato, casistiche, tipologie anche di crisi aziendale, possa avere invece un ampliamento dal legislatore un po' più con questi nuovi obiettivi che io sto citando, perché anche lì si è imbrigliati. Quindi se si avesse la possibilità di dare molto più spazio alla contrattazione collettiva aziendale, molto probabilmente le aziende potrebbero volare molto più velocemente. Però, diciamo, questo per quanto riguarda l'atto, contrattazione... Giusto per semplificare, non importa più tanto all'azienda che venga timbrato il cartellino quanto al raggiungimento degli obiettivi. Corretto, si pensi anche agli spazi di co-working, quindi il lavoro fatto, il south working che oggi sta prendendo piede. Molte aziende lavorano dal sud, molte aziende consentono che i propri lavoratori lavorino dal sud, magari in paesi di origine, dove magari il costo della vita è anche più basso, per esempio. Però dico, questo dal lato parti, cioè azienda, sindacati, lavoratori. Ma i sindacati e le aziende non possono fare da soli la loro parte se in questo senso il legislatore non interviene e deve intervenire anche subito, a mio modo di vedere, perché sono troppi anni che noi giusti lavoristi, lei ha detto, io insegno all'università, parte della dottrina ormai sempre più ampia e da tempo che continua a sostenere che si deve passare da uno statuto dei lavoratori allo statuto dei lavori per tipizzare tutte le fattispecie di lavori che oggi le aziende, o torto collo comunque, creano anche. Pensate ai riders. I riders, un lavoro atipico, i giudici meneghini hanno deciso a un certo punto che si trattava di lavoro subordinato. Dopo un po' di tempo è intervenuto il legislatore andando a normare questo istituto, questa tipologia di lavoro, il lavoro da piattaforme appunto, però dando quelle giuste tutele a quei lavoratori che fino a poco tempo fa non ne avevano. E quindi dallo statuto dei lavoratori allo statuto dei lavori c'è bisogno di una ampia normativa che tipizza e tuteli tutte le forme di lavoro. Penso alla cassa integrazione guadagni, pandemia Docet, abbiamo dovuto ampliare la portata della cassa integrazione guadagni per la pandemia che ha costretto le aziende a chiudere, però poi si è ritornati al passato. Oggi la cassa integrazione è solo per alcune determinate aziende, cioè industriali e commerciali con più di 50 dipendenti e quindi ci possono essere delle problematiche di sospensione dell'attività lavorativa non coperte dall'integrazione salariale. E poi ci vogliono altre ulteriori norme che vadano ancora di più a consentire quella flessibilità che la stessa Avvocato Fazio ha citato, che possa consentire alle aziende da un lato di produrre meglio, di creare uno sviluppo strategico in ottica a questa resilienza legata alla digital transformation e ai cambiamenti delle organizzazioni e dall'altro lato anche per favorire la felicità del lavoratore, quindi il cosiddetto work-life balance. Bene, quindi non ci resta che aspettare, sperare che il legislatore prenda appunti e recepisca definitivamente questa trasformazione che è in atto ormai da tempo, quindi il tempo il legislatore l'ha avuto, ormai insomma è stata proprio la pandemia a sollevare tutti i nodi al pettine. Io per il momento vi ringrazio per il vostro importante contributo, l'Avvocato Francesco Mendolito, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. E grazie anche all'Avvocato, grazie a Fazio. Grazie, grazie a voi. Grazie ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.